Ciao! Come ti chiami? Sami! Ciao Sami! Da dove vieni? Guastalla! Sei qua vicino? Sì, sì, ormai in Marocco, però sono nato qua. Bene, dai! Quindi sei qua da sempre, insomma? Sì, sì, ormai. Ok, qual è questa scelta? Niente, sperimentale. Sperimentale, ok. Speriamo che vada bene. Ah, dai, no, andrà bene, non ti preoccupare. Tu preoccupati solo di divertirti, il resto ci pensiamo noi. Io a farti il video e a Lorenzo a portarti giù. Ok. Va bene? Fai quello che ti dice Lorenzo e vedrai che sarà un lancio bellissimo. Perfetto. Divertiti e goditi, insomma, un po' il panorama. Va bene? Va benissimo. Allora, adesso io ti lascio con Lorenzo che finisce ad imbragarti e noi ci vediamo tra pochissimo in aereo. Ok. A tra poco! Ciao! 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 ma il top è primo io con il secco come state? pronto? MIMO! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.